Credo che lo facciano tutti, mi sa Però nemmeno, che non ce l'ho Eh già Ah, è la macchina tedesca, tu Superturbo Ok, gli ostacoli Ho preso il muro, perché pareva E guarda come superavano tutti Questi ostacoli sono terribili Perchè qua non si decelera mai, eh, questo pareva Perchè siete finiti tutti i ritiri sul muro? Ok, 1 Era quasi la figura di 2 Perchè sono 11 esca? Ah, perché solo in 11 l'hanno finita Solo in 10 Ora in 11 15, 16, 17 Madonna Nooo E vabbè Nooo, ma dai Al terzo stacco L'ultimo No, 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 no Mi sono avvolto Eh, io non riesco a fare quei checkpoint Anche io continuo a finire lì Di fuori Che fase Maledetto Eh, vabbè E vabbè Io ho finito sul muro Andando alla stessa velocità degli altri Io volo e gli altri no Bello Ah che scendo Ah, io ero finito No dai No dai No dai Vai 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 27esimo 13esimo Ho fatto la medaglia loro Ah 2 secondi di differenza dal primo Ho fatto Nooo Ero perfetto E' andato sul muro Alla fine C'è un altro primo E' andato sul muro E' andato sul muro E' andato sul muro E' andato sul muro E' vinto lui E' vinto lui Prima se mi vedi Ciao E' LOL Oh che strano Ah gli ultimi 10 secondi l'ha superato Non si vuole contare, il gusto è troppo palese.